Lei mi fa rievocare un tempo purtroppo assai lontano perché parlare di mezzo secolo è un po' pesante però effettivamente il mio amore per l'Africa nasce già a liceo perché io napoletano mi occupavo molto di questi problemi del sottosviluppo che rappresentavano per me una delle curiosità intellettuali e anche esistenziali di maggiore pregnanza, di maggiore importanza, quindi già all'università io ho studiato leggi a Napoli però frequentavo il gruppo intorno al grande economista meridionalista Francesco Compagna che è la rivista Nord Sud ho anche scritto delle cose, allora ero un ragazzino e questo problema dello sviluppo e quindi delle aree sottosviluppate, oggi si direbbe per aree emergenti, mi interessava molto. Proprio per questo quando ripresi gli studi dopo la laurea in legge, ripresi gli studi di scienze politiche all'Università di Lovanio io mi interessai molto al tema dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo e quindi la protezione internazionale degli investimenti. Preparavo una tesi appunto di dottorato quando incontrai un professore belga molto legato all'esperienza congolese, l'esperienza del Congo belga che era stato professore all'Università di Lovanio, allora a Leopoldville, alla capitale e lui mi volle aiutare, io non ero ricco, avevo bisogno di finanziare i miei studi e quindi lui mi offrì questa posizione di insegnante nell'Università del Congo. Non all'Ovanyom che era l'Università cattolica, ma all'Università di Stato, perché già allora in Congo c'erano tre Università, un'Università protestante che si trovava a Kisangani, allora a Stanleyville, un'Università cattolica che era una filazione di Louvain e quindi l'Ovanyom e poi un'Università invece statale che era nel Katanga a Elizabethville, allora oggi Lubumbashi e quindi io partì per questa avventura africana, si aprì così nel novembre appunto come mi ricordava del 66, Mobutu aveva appena preso il potere da poco e io arrivai in questo paese per la prima volta in Africa e come dico sempre quando incontro delle persone che mi chiedono del mio passato fu come nella notte veder passare in una piccola stazione di paese un meraviglioso treno illuminato che si ferma per caso e uno sale, fu così per me, perché si aprì in quel modo una straordinaria per me esperienza umana, quella di scoprire prima di tutto che le cose che avevo imparato erano forse tutte da rivedere e poi soprattutto scoprire nella realtà quanto Napoli fosse vicino, cioè il problema della differenza, dell'essere un po' catalogati un po' come un gruppo un po' inferiore, ecco mi avesse portato a capire molto di più sentimenti, aspirazioni, problemi del sud del mondo. D'altra parte il Congo, il Congo è il cuore dell'Africa, il cuore dell'universo intero è un paese magico, straordinario, importantissimo, quindi un'esperienza fondamentale per la mia formazione. Io quando sono entrato in classe per le prime volte mi ricordo che a dare dei corsi di eventi di base di scienze politiche si parlava del potere e io dovevo dire cos'era le pouvoir, le pouvoir io lo dicevo in un certo modo e mi rendevo conto che il potere inteso dai miei alunni congolesi era forse aveva delle altre connotazioni e quindi c'era tutto un lavoro mio da fare, di apprendimento mio della realtà. Ecco io dell'esperienza congolese ricordo due momenti che mi sembrano fondamentali, cioè io arrivai all'inizio di novembre, il mondo era abbastanza tranquillo allora, Mobutu aveva un po' pacificato già il paese che era passato attraverso una crisi terribile, tutti si ricorderanno dei massacri dei Baluba, si ricorderanno dell'intervento delle Nazioni Unite, Ammar Schjold, gli italiani che erano stati uccisi, gli aviatori italiani a Kindu, insomma è una tragedia il Congo, una tragedia, però quando sono arrivato io nel 1966 questo si era già a pesè, si era già un po' calmato e Mobutu però fece, pochi giorni dopo, prese un provvedimento di un'importanza enorme, cioè nazionalizzò l'Union Minier di Okatanga, questo gigante economico che era proprietario delle miniere di rame e cobalto del Katanga che erano quello scandalo geologico di cui si è parlato, cioè erano miniere affioranti, quindi con costi di utilizzazione bassissimi e che permettevano al Congo di esportare il minerale attraverso la grande ferrovia che era stata costruita all'inizio del Novecento fra Elisabethville e Lobito in Angola e permettevano di avere un flusso incredibile di risorse e di denaro, facevano parte di quella spoliazione che permise l'arricchimento dell'Europa e del Belgio. Quindi questa decisione di espropriare e nazionalizzare il nominier determinò una violenta reazione del Belgio che fra l'altro si tradusse nel ritiro dell'assistenza tecnica. L'Università del Congo era gestita al 70% da docenti e con i soldi del Belgio, dell'assistenza belga, quindi dall'oggi al domani l'Università si trovò senza professori e senza soldi. I pochi che erano stati come me reclutati dalle autorità congolesi fumo chiamati e ci venne detto volete restare o volete andare via? Perché non sappiamo se potremo pagarvi, non sappiamo se riusciamo a mandare avanti l'Università, ognuno di voi dovrà insegnare anche cose per cui non è venuto qui, non è direttamente qualificato, ma dobbiamo fare alla guerre come alla guerre. Io ero un ragazzo giovane che pieno di questi ideali terzomondisti si chiamavano allora, mi sembrò di sognare, di sì ma certo, ma non mi pagate, ma non mi porta e cominciò questa avventura straordinaria perché io in pochi anni dovete assumere degli incarichi di insegnamento che mi facevano lavorare l'otto giorno per prepararmi io stesso, mi portò a fare corpo unico con i docenti e gli studenti congolesi, a considerarmi congolesi anch'io in questa avventura e mi portò rapidamente a diventare poi prezzi della facoltà e poi direttore di questo grande dipartimento di scienze politiche amministrative e soprattutto a ricevere degli incarichi assolutamente al di là delle mie capacità. Io ho rappresentato il Congo nel primo negoziato con gli Stati Uniti d'America per l'apertura dei rapporti di collaborazione culturale che portarono poi alla fondazione Rockefeller, al grande accordo con la fondazione Rockefeller che prese proprio la mia facoltà e proprio in accordo che abbiamo negoziato con il professor Jim Coleman, una persona di cui ho un ricordo meraviglioso, questo grande africanista americano che poi è stato professore all'UCLA all'Università di Los Angeles e a cui è dedicato adesso al suo nome, porta il suo nome l'Istituto di Studi Africani dell'UCLA, abbiamo negoziato il primo accordo che portò alla formazione di tanti tanti giovani congolesi, quei giovani congolesi che poi presero un po' il mio posto quando io decisi di abbandonare questo mestiere meraviglioso e farne un altro che era quello della diplomazia che fu sette anni dopo, io che ero partito per finire la tesi e stare 12 mesi, ne feci 7 anni, quindi fu un notevole innamoramento, ecco che da allora ha lasciato un segno profondo, il Congo è per me un paese che mi è rimasto carissimo, forse i paesi che mi sono rimasti più profondamente nel cuore sono il Congo per questa esperienza iniziale, l'Angola per la terribile tragedia che viveva quando io andai come ammasciatore e poi la costa d'Avorio perché anche il punto finale è quello di cui forse parleremo adesso. È importante forse dire che io sono arrivato ad Abidjan con un po' il cuore amaro perché sapevo che la costa d'Avorio che era stato, che era indicato come il paese del successo, dello sviluppo della pace, del benessere, attraversava in realtà da alcuni anni una crisi profonda e quindi prima di arrivare venendo da Luanda, io ho preso un volo diretto Luanda-Bidjan, quindi sono andato direttamente senza fermarmi a Roma nel trasferimento, sapevo che andavo in un paese che affrontava un brutto momento, un momento delicato di trasformazione, di passaggio e devo dire che sentivo dentro di me venire delle nubi, le vedevo arrivare e che mi ricordavano molto questa esperienza dell'Angola. L'esperienza dell'Angola io l'ho vissuta come una esperienza molto dolorosa, molto dolorosa e mi arrivo a Luanda indimenticabile. Quando sono arrivato a Luanda quattro anni prima nella mia missione appunto come capo missione, io andando semplicemente dall'aeroporto alla residenza, vedendo il grado di miseria umana, di dolore che veniva dalla gente, da tutto l'ambiente, io pensai ma io non ce la faccio stare qua a quattro anni in un paese come questo, devastato da una guerra ingiusta, un paese che ha ricchezze sconfinate, che potrebbe vivere nella veramente l'allegria perché è un popolo di allegria, un popolo bellissimo e che si trova preso da un conflitto pazzesco. Io ebbi questa sensazione terribile e quei quattro anni di Angola furono degli anni vissuti così, con questa sofferenza delle visite fatte indimenticabili, visite alle città dell'interno con questi aerei che dovevano sparing per scendere agli aeroporti per evitare i missili lanciati da questi ribelli che non si capiva che cause le perseguissero e poi avevamo notizie di questi ribelli sempre più retrocessi a dei comportamenti inaccettabili sul piano proprio dell'umanità, sempre più ispirati a una crudeltà inaccettabile e senza una motivazione politica che li giustificasse. Ecco, dopo aver vissuto questi quattro anni, vedevo che la guerra anche in Angola stava per finire perché la fine del conflitto est-ovest in quelle dimensioni avrebbe determinato che era quello che poi generava il conflitto angolano, mi faceva intuire che anche la tragedia angolana era la fine, però arrivando a Abidjan la mia cosa è stata che non veda la stessa cosa, quindi sono arrivato un po' prevenuto dalla paura di vedere un altro paese africano travolto da una guerra nata altrove, una guerra motivata dall'esterno e che non aveva delle giustificazioni e di questo resto convinto dopo questa esperienza. Quindi ho incontrato Bagbo con questa preoccupazione dentro di me e glielo ho detto immediatamente, perché ho visto quest'uomo sorridente, così africano, così comunicativo, che già mi ha accolto in una maniera del tutto diversa da quello a cui ero abituato e che mi aspettassi facendomi sapere prima di andare dal protocollo se ero sposato e se mia moglie gradiva venire anche lei alla presentazione dei credenziali, era un contratto informale ma così umano, così simpatico che io lo trovai magnifico e mi aprì subito un Bagbo che poi si è confermato per tutto il periodo che l'ho conosciuto, una persona di una cordialità, di un'apertura umana, di una anche serenità veramente, devo dire per certi aspetti affascinante e anche affascinante la sua africanità, perché era una persona che amava l'Italia, parlava un po' latino, aveva fatto studi classici, quando venne in Italia in visita sballordì il nostro presidente Ciampi dicendogli delle espressioni in latino e ricordando della storia romana, episodi della storia romana per cui Ciampi si voltò verso di me e mi disse beh sei fortunato che aveva un presidente così e certamente era una persona che aveva questo amore, aveva un amore per Firenze particolare, probabilmente perché lui si chiama Laurent e Lorenzo è magnifico, ma le riforme di Lorenzo a lui piacevano molto, le ricordava, ecco quindi aveva questo amore per l'Italia, aveva un amore per la Francia, senza dubbio era un uomo formato alla cultura francese, per cui aveva grandissimo rispetto e simpatia, però era un africano, un africano a tutto tondo, che amava il cibo africano, amava le cortesie, il vivere africano e amava anche il non rispetto degli orari per esempio, di cui veniva molto accusato in ambiente diplomatico, si diceva che si andava da Bagua, non si sapeva mai a che ora si era poi ricevuti perché gli orari degli appuntamenti erano un po' oscillanti, ecco oscillanti, però certamente un ricordo di una persona da punto di vista umano notevolissima, dall'altra parte anche una persona con questo profondo rispetto per la democrazia, lui era affascinato da questa idea della democrazia, io ricordo che proprio nella visita a Presidente Ciampi, quando prese la parola, disse subito Presidente non sono qua per chiedere soldi, ma le chiedo una sola cosa, mi aiuti a costruire la democrazia nel mio paese, e che cosa vuol dire? Disse Ciampi, e lui rispose costruire significa aiutarmi a formare i quadri del Parlamento ivoriano, i quadri di una democrazia pluralista nel mio paese, i soldi li prenderemo, li troveremo altrove, ne parlerò col primo ministro, era Berlusconi, quindi era ben informato lui, e fece questo bellissimo doppio incontro, quello con Ciampi, direi molto politico, molto storico-filosofico, che partiva da Roma e arrivava alla costruzione della democrazia, e invece quello poi col primo ministro con Berlusconi, che iniziò con una fotografia di gruppo, anzi una fotografia che volle fare lui e Berlusconi da soli, appena lo incontrò, disse Presidente, però adesso mi faccia fare prima una fotografia, perché avere una fotografia con Silvio Berlusconi è un fatto alla moda, importante la voglio fare, questo per dire il tipo, una persona di grandissima qualità, di grandissima qualità, che faceva anche la differenza con molti capi africani, che venivano un po' con una cultura approssimativa. Ecco, Bagbo era una persona di cultura, è una persona di grande interesse umano e di rispetto per gli altri, mi è rimasta questa idea di lui. Fu proprio una delle prime domande di Bagbo a Ciampi, dice, ma lei è un uomo della resistenza, è un uomo che ha costruito democrazia e libertà, e anche io ho fatto la resistenza quando c'era il monopartismo nel mio paese, mi sono battuto nelle strade, sempre con mezzi pacifici, però mi sono battuto, sono stato in galera, sono stato anche esiliato per questo, quindi l'assetto molto vicino e quindi ci fu una grandissima sintonia fra i due, almeno in quel colloquio che purtroppo poi, come si sa, fu seguito da eventi tragici e dalla fine di un'esperienza politica secondo me è importante. Io devo dire che, ecco, nei ricordi a volte ci sono alcune cose che vengono più in evidenza forse di altre e quindi possono anche non essere così essenziali, però mi colpì prima di tutto il fatto che Bagbo sottovalutasse questo colpo di Stato, fino al momento in cui giunse la notizia dell'uccisione di Bogadudu, quando arrivò la notizia che il Ministro dell'Interno era stato ucciso in quel modo selvaggiamente e che il Ministro della Difesa si era salvato per caso e la moglie era stata sottoposta in audite violenze, allora capì che forse si trattava di qualcosa di più grave, di più importante, di più manovrato, di più gestito, però fino a quel momento, quindi nelle primissime ore in cui arrivavano le prime notizie da Abidjan con cui lui era in contatto, lo avevano trovato abbastanza sereno, lui riteneva che si trattasse effettivamente di un gruppo di militari insoddisfatti e che si potevano accontentare con delle misure più semplici. Invece l'escalation gli fece capire che si è stato qualcosa di più grave e che quindi bisognava correre un pochino ai rimedi. La prima sua reazione fu però quella di partire immediatamente e quindi ci disse subito che lui sarebbe partito immediatamente. Fu soltanto quando da Abidjan gli dissero che l'aeroporto non era più sicuro e che il suo aereo poteva essere abbattuto, che lui capì che la dimensione militare era veramente molto grave, che i francesi non avrebbero protetto l'aeroporto, non avrebbero quindi assicurato il suo volo e fu costretto a rinunciare, cosa che gli costò moltissimo, di 24 ore il suo rientro e partì il giorno successivo. Il giorno successivo io l'ho accompagnato all'aeroporto di Champino sotto un'acquazione violenta, uno di quegli acquazioni romani che sembrano un po' tropicali per la quantità d'acqua che cade e mi ricordo che lui andò in aereo e mi salutò con questa espressione della drammaticità del momento e mi disse semplicemente ma l'Italia non ci può aiutare perché noi non abbiamo nemmeno le armi per difenderci. Poi capì che io forse non ero in condizione nemmeno di dare una risposta su questa, che era stata una mezza richiesta di aiuto. Io credo che sia molto importante per capire la crisi ivoriana del periodo Bagbo è di cominciare dagli inizi, cioè Bagbo prende il potere attraverso un'elezione che non del tutto tranquilla, lui stesso disse calamite perché erano delle elezioni che stiano state organizzate con una parte dei partiti che dichiaravano di opporsi, con il fatto che Guattara da Presidente precedente era stato ritenuto non elegibile e quindi era stato escluso dalla competizione. Questo fu poi il vero motivo di tutta la crisi che c'è stata e che ha travagliato questo Paese, ruota intorno a questo fatto, cioè l'esclusione di un uomo dalla competizione elettorale e le ambizioni di questo uomo, legittime o no, non voglio dire. Però di là nasce un po' tutto perché altrimenti non si capisce nulla. Quando comunque Bagbo va al potere in questo modo si trova con un muro che è il muro europeo. E perché un muro? Perché l'Unione Europea aveva, due anni prima, aveva deciso di sospendere ogni forma di assistenza alla costa d'Avorio a seguito del colpo di Stato militare del generale Ghii. E questo faceva parte della politica tradizionale dell'Unione Europea, quindi consacrata anche negli accordi di Cotonou, che erano accordi di Lomè e poi diventati accordi di Cotonou, che prevedevano che la rottura con la forza del sistema politico determinasse la sospensione degli aiuti. Quindi Bagbo si trovò con un Paese che non riceveva più una lira dall'Unione Europea, che era la grande mamma che aveva permesso fino allora alla costa d'Avorio di avere il benessere che aveva avuto, perché era stata fortemente sostenuta dalla Francia e attraverso la Francia dall'Unione Europea. Lui si trovò a questo muro e quindi il primo gesto di Bagbo, appunto appena arrivato io, fu quello di rilanciare e aprire il famoso dialogo che è previsto dagli accordi o dall'accordo di Cotonou. In che cosa consiste questo dialogo? Io penso che sarebbe molto opportuno che i giornalisti più attenti facessero una ricostruzione di questa fase, perché questa fase viene come lo sporco che si mette sotto il tappeto, viene messo sotto il tappeto e ignorato. Ed è fondamentale invece, perché da questo dialogo era un martellante inchiesta, interrogatorio, esame, a cui erano sottoposti i dirigenti ivoriani dall'Unione Europea ed era condotta dagli ambasciatori europei sul posto, come sotto guida diversa perché secondo le presidenze ogni sei mesi cambiava la presidenza, gli ambasciatori si riunivano, esaminavano le risposte che erano state date alle loro domande, vedevano se erano soddisfacenti o meno e questo giudizio non era degli ambasciatori, era delle rispettive capitali, ma gli ambasciatori acquisivano informazioni sul terreno attraverso tutti gli organi di informazione di cui disponevano e ponevano nuove domande. Quindi ogni 15 giorni, ogni mese il primo ministro a Finghessan con i suoi ministri di volta in volta interessati, giustizia, difese, dovevano rispondere a queste domande. Non c'era poi unanimità di giudizio fra gli ambasciatori europei, era noto per esempio che il rappresentante dell'Unione Europea, un tedesco Friedrich Nagel, che era un notaio di formazione, aveva questo atteggiamento molto notarile di verificare veramente se le virgole delle risposte erano corrette e quindi c'erano spesso delle accese discussioni all'interno del gruppo. E l'ambasciatore di Francia, che in quel momento era l'ambasciatore Vignal, era uno dei più accesi e entusiasti sostenitori delle politiche di riforma che stava avviando pian piano il paese. C'era all'interno del gruppo europeo, ecco, fra quelli che volevano riforme più rapide e quelli che dicevano che non si può andare nemmeno troppo in fretta. ed il problema era quello dello statuto degli stranieri. E quante volte abbiamo detto, ma noi in Europa poniamo tanti problemi per la presenza di stranieri che erano 2%, 3% della popolazione, allora non era più di tanto, nemmeno nei paesi a forte immigrazione come non solo la Francia, che arrivava al 4-5%, e dicevano ma questi qui c'hanno stranieri al 30%, forse i problemi è chiaro che pongono delle difficoltà e quindi il paese va lentamente. Però erano stati apprezzati molti dei gesti, molte delle politiche avviate dal governo Bagbo, fra l'altro il forum di riconciliazione nazionale che era stato affidato a Seidu Di Arraa, una persona musulmano del nord, praticamente un po' dell'opposizione se si vuole, ma persona anche di equilibrio, erano stati invitati i grandi avversari del regime, era stato invitato a Guattara, Guattara aveva parlato, aveva fatto vedere il suo passaporto, il passaporto dei suoi genitori, quindi rivendicando questa sua nazionalità, erano stati aperti in maniera concreta dei passi, al punto che nel 2002, proprio nel 2002, dopo un anno e mezzo di questo estenuante esercizio in cui il governo Bagbo sembrava più impegnato a lavorare con noi che a lavorare per il paese, perché lo sottoponevamo a questo martellante interrogatorio, sotto presidenza spagnola, l'ambasciatore era una signora, Maria Rosa Boceta, che era una entusiasta, sostenitrice dei movimenti di riforma del governo Bagbo, l'Unione Europea dichiarò, in seguito al rapporto degli ambasciatori sul posto, a Bruxelles che la cooperazione si riprendeva nella formula statutaria plein et antier, pienamente, interamente, l'Europa riprendeva la cooperazione e quindi dava un po' un attestato di democraticità, di rispetto dei diritti dell'uomo, perché il dialogo era soprattutto sul rispetto dei diritti dell'uomo, su tutto sommato un giudizio positivo su questo primo anno e mezzo, due anni di governo del regime Bagbo. Fu nel giugno del 2002 che c'è questa dichiarazione europea di ripresa della cooperazione, la presidenza è spagnola, io sto per prendere la presidenza italiana, la presidenza europea, perché non c'è rappresentanza greca e quindi l'Italia sostituiva la Grecia nella presidenza in loco e quindi io dal primo luglio devo assumere la presidenza e mi viene, chiede di incontrarmi il presidente Guattara che viene in residenza e mi dice, ma l'Unione Europea non ha capito che invece i problemi ci sono e io chiesi, ma quali problemi, di cosa mi parla? E lui dice, ma i problemi della esclusione, cioè c'è un gruppo importante della popolazione che è esclusa e questa esclusione è il seme della discordia, ma anche la base della fragilizzazione dello Stato e il potenziale rischio per la stabilità del Paese. A me sembrò molto grave questa affermazione, per cui volevo approfondire, dissi il presidente, mi dica in che cosa consiste l'esclusione? Perché io sono corrente, sappiamo che per esempio gli organi della polizia, i poliziotti per la strada, delle volte quando fermano un automobilista che ha un nome del nord oppure un tourè, allora a volte gli chiedono qualche franco per andarsi a comprare una sola birra e certamente è un abuso che per quelli che hanno questi nomi dà fastidio, non solo dà fastidio, a volte gli irrita, a volte anche poi gli nuoce, però ci sembra che questo non rientri in una politica perseguita dal governo, ma in un comportamento che è un pochino nella cultura tradizionale, un pochino esiste contro cui dovremo lottare, noi siamo impegnati come Unione Europea e saremo contenti di lavorare insieme con lei per risolvere questo, ma che non riguarda una responsabilità di questo governo. E lui fu molto scontento di questa mia, dicendo che a suo avviso l'esclusione aveva delle basi molto più importanti. E io dissi, beh, noi sono o politiche o economiche o giuridiche, siamo pronti qualunque richiesta per trattarla. Però io immediatamente riunì gli ambasciatori europei e dissi questa visita mi preoccupa molto, perché è un avvertimento, forse anche venendo io da una cultura del sud d'Italia dove gli avvertimenti hanno un significato, questo mi sembra un avvertimento che i tempi che ci aspettano non sono così tranquilli. E infatti guardai con un po' di scetticismo queste misure che prendeva il governo, Bagbo, di allargamento del governo inserendo anche l'amministrazione, il governo di larghe intese, che tutte cose che poi fallirono miseramente. Questo è il quadro in cui nasce il viaggio in Italia. Devo dire che il viaggio in Italia era nato appena ho incontrato il Presidente, perché subito lui mi ha detto vengo a Roma, non solo perché Roma ce l'ho nel cuore, non solo perché Roma è la mia casa, perché io devo andare a vedere il foro romano, devo ritrovare il posto dove hanno ucciso Giulio Cesari, i miei libri, i miei studi li ho fatti su questo e quindi voglio venire a Roma, voglio venire a Firenze, ma poi perché è importantissimo che la Costa d'Avorio, e quindi questo è un altro tema importantissimo, non sia dipendente dai rapporti con un unico paese, ormai è tempo per diversificare e l'Italia è un partner con cui vogliamo avere rapporti, l'Italia aveva una grande presenza economica, una grande presenza culturale, sta sparendo, io vorrei rivederla qui. Questo discorso lo lanciò all'inizio e poi lo riprese in questa occasione quando organizzamo questo sfortunatissimo viaggio che fu il viaggio del Corpo di Stato. Guardi, sul programma del governo Bagbo, e adesso poi veniamo a questo dell'assistenza sanitaria, sul programma del governo Bagbo sono state dette tante cose, però secondo me commettendo un errore di prospettiva storica che mi ha sempre talmente sorpreso che io sono portato a dire che c'è un po' di malafede, perché come si fa a dare un giudizio negativo sul programma che era svolto dal governo Bagbo senza collocare questo governo nella situazione tragica in cui fu messo dal Corpo di Stato nel 2002? Come poteva Bagbo portare avanti un programma di riforme sociali, di ricostruzione dello Stato, con un paese diviso a metà, con una divisione sostenuta anche perché in fondo le forze internazionali o le forze francesi prima, poi diventate forze onusiane, garantivano una divisione dello Stato. Quindi metà del paese era nelle mani di un gruppo ribelle, c'era stato circa un milione di persone che era scappato dal nord e era andato a vivere nel sud, quindi doveva occuparsi anche di rifugiati interni, non di mille persone, ma di un milione di persone, con una distorsione anche dei rapporti commerciali internazionali, perché il caffè, il cacao, le banane, che non sono notoriamente prodotti del nord, venivano esportati dalla costa d'Avorio nei paesi, erano diventati prodotti del Burkina. C'era qualcosa alla base del regime stesso che rendeva difficile per Bagbo mantenere in piedi il suo programma elettorale. In questo contesto il programma di sicurezza sociale e quindi di estenza malattie che Bagbo voleva portare, perché naturalmente ne capiva sia l'impatto dal punto di vista sociale ma anche politico, i ritorni che ne poteva avere anche dal punto di vista politico, era il più difficile da realizzare, perché per realizzarlo c'erano bisogno di soldi e i soldi in quel momento non gli ridava più nessuno, perché la crisi si associa, la crisi militare interna, la crisi amministrativa di divisione del paese, ha una crisi internazionale perché viene montata sul piano internazionale un'operazione anti-Bagbo che cerca di isolarlo nel mondo. Quindi tutta l'assistenza internazionale si chiude, dalla banca mondiale al tutto. C'è un muro negativo contro cui è difficile combattere. Se si vuole dare un giudizio a chi si crede di poter permettere, io non credo, ma insomma di poter dare un giudizio, l'errore politico a forza del presidente Bagbo è stato proprio questo, di non rendersi conto dell'ampiezza del fronte che aveva di fronte. Era un'ampiezza che aveva cercato lui di scardinare con appoggi africani che poi si sono dimostrati molto deboli, tranne Forza Embeki che fino alla fine è stato coraggioso nel mantenere di fronte al mondo una linea di coerenza, però si è sgretolato il mondo africano, di sostegno africano, si è sgretolato il mondo internazionale perché la Cina, con un ambasciatore, una signora formidabile che è stata una delle più attente, che ha seguito con maggiore attenzione la politica di Bagbo, anche la Cina poi non ha più, non è andata al di là di un certo appoggio vocale, non più di questo, non più di questo, e soprattutto la determinazione francese è stata insuperabile. Il problema vero di tutta questa storia era capire perché l'opinione politica francese si è così mobilitata contro questo regime Bagbo, perché non hanno convinto nessuno le argomentazioni della violazione dei diritti e l'uomo di queste storielle, perché la Francia poi ha mantenuto il suo appoggio a regimi corrotti, a regimi di violatori diritti e l'uomo e quindi per quale ragione proprio questo qui dava tanto fastidio che poi queste infamità non sembrava commettere agli occhi della stessa Unione Europea che aveva valutato positivamente l'operato del governo. Quindi c'era una contraddizione, è la contraddizione in cui cade l'ambasciatore Vignal, il quale viene praticamente espulso dal paese in una maniera che credo anche questa non ha precedenti, perché il ministro degli esteri francesi giunge a Roma, carica l'ambasciatore Vignal su suo aereo e al suo insaputa dello stesso ambasciatore chiude le porte dell'aereo e se lo porta via lasciando il figlio in residenza che non sapeva nemmeno che il papà era andato via. Voglio dire, sono episodi che lasciano molto perplessi e su cui è un po' doloroso per un paese che ama tanto la Francia come me, dover dire che veramente questo periodo di governo francese ha lasciato molti dubbi e purtroppo anche i governi attuali consentono che questi dubbi permangano perché ci sono episodi che andrebbero chiariti nell'interesse di tutti, anche se fanno male ad alcuni. su questa operazione militare del 2002, cioè l'azione dei ribelli del 2002, tutti gli interrogativi sono rimasti tutti aperti. Mi sembra come i grandi processi in Italia che restano per 30 anni, 40 anni senza risposta, perché arriva questo piccolo gruppo di ribelli, un piccolo gruppo, si tratta di un piccolo gruppo però armati di tutto punto, vestiti con uniformi fiammeggianti su veicoli nuovi, pagano la benzina quando si fermano ai distributori lasciando tutti esterrefatti perché avevano biglietti fiammanti e pagavano tutto. chi aveva organizzato questa operazione in questi termini? Chi la finanziava? E' quello che era stato il famoso assalto alla banca che aveva portato dei miliardi di franchi di furbo. Ma chi l'aveva organizzato? Chi c'è dietro che ha manovrato questa operazione? E poi l'Unione Europea immediatamente condanna questa operazione, immediatamente viene a tutti in mente che le forze di difesa francesi che sono lì per un accordo di difesa devono prendere la difesa del regime legittimo, perché questa è la base dell'accordo, il principio fondamentale che lega e che giustifica la presenza delle forze francesi in costo d'avorio. Le forze francesi stanno in costo d'avorio in base a un accordo di difesa che serve a difendere il regime legittimo. Se il regime viene aggredito in quel modo, uccidendo il ministro dell'interno, se non agiscono. E il comandante del BIMA aveva dichiarato che se fosse stato richiesto, lui in poche ore avrebbe risolto il problema. Quindi aveva le truppe pronte. Chi è che impedisce questa operazione e perché? Io credo che la Francia deva porsi questo problema con serietà, con molta serietà. perché dietro a questo c'è una distruzione di un paese, ci sono migliaia e migliaia di morti. E adesso quello che poi dirà successivamente di essere lui il capo di questi ribelli, cioè Sorò che adesso è presente il Parlamento, Sarebbe interessante sapere come esattamente si sono svolti i passaggi di consegni, i passaggi di potere fra militari e civili all'interno della ribellione. Non credo che sia stata fatta verità su questi punti. Io nemmeno posso dirgliela perché non lo so, non la conosco. Certamente mi sembra molto strano che tutto questo sia stato, sia maturato sulla base di un preteso conflitto di interessi fra Bagbo e la Francia. Mi sembra poco credibile tutto questo. In fondo la Francia abbia altre visioni, abbia altri interessi che in fondo, interessi che poteva difendere in costo d'avorio. Quindi è molto difficile, per me è molto difficile capire esattamente che cosa ha determinato quello che temevo arrivando, cioè una ripetizione dell'Angola in costo d'avorio. Cioè un conflitto portato da fuori. Perché vede una cosa che anche si dimentica. Quando io sono arrivato quello che mi ha colpito dalla costo d'avorio era l'armonia, la solidarietà che esisteva all'interno della popolazione. Andare a Trashville, quando le popolazioni più diverse vivevano insieme. Io avevo degli amici che avevano le mogli che erano cristiane o musulmane e viceversa. Cioè nelle famiglie c'erano convivenze religiosi che sono impensabili o sembrano impensabili e che lì erano la realtà. Si faceva il Ramadan e però si andava poi a Natale, nella stessa famiglia, nello stesso quartiere. Il governo di Bagbo. Il governo di Bagbo. Si dimentica che il ministro degli esteri era un musulmano del Nord. Che il numero due del regime, presidente dell'Assemblea, era un musulmano del Nord. Sposato con una Burkinabè, tra parentesi una delle persone più intelligenti che abbia conosciuto, Mamadou Koulibaly. Allora questo paese che viveva in questa sostanziale armonia doveva essere per forza divisa alle elezioni su basi tribali. Quando stava tribali nel senso etniche, culturali, lungi da me, usando la parola tribale, di voler minimamente neascreditare quello che io ritengo una grande ricchezza dell'Africa, che sono i valori etnici, culturali. Ma che non devono trasformarsi in motivi di contrapposizione politica. Devono essere la ricchezza di quel mondo, che è la ricchezza di quel mondo. Ma che va vissuta come un lievito di un'armonia, di una diversità che arricchisce. E così era, e così la vedeva anche Bagbo. Certamente, come in tutte le cose umane, poi c'è del bene e del male. Ma così fu una cosa positiva perché, se non altro, camminava una ribellione verso una via d'uscita. E certamente Bagbo l'aveva vista così quando venne. e tutti i tuoi tentativi furono sempre quelli di evitare il peggio. Quindi di dire sì, però cercando poi di negoziare per salvare quella che era i pezzi più importanti del suo patrimonio, che era la sua Costituzione. Perché Bagbo è stato sempre fermo su un punto. Cioè che la Costituzione era il punto di partenza. Si poteva cambiare nelle forme dovute, ma non si poteva violare. Perché se si cominciava a violare la Costituzione, saltava tutto. E quindi lui continuava anche a noi e anche negli nostri incontri a martellare sempre su questo punto. E il suo contrasto con Tevogere, che era allora il Presidente del Comitato del Suivi degli Accordi, era proprio questo. Che Tevogere diceva che bisogna cambiare la Costituzione. E Bagbo diceva, ma chi è lei per dire questo? Qui cambiare la Costituzione lo possono dire soltanto agli ivoriani. E lo si dirà nelle forme, se necessario, nelle forme in cui lo dirà il popolo ivoriano. Ma io ho giurato su questa Costituzione e vado avanti su questa Costituzione. E guardi che è stato su questo che lui si è giocato alla pelle alla fine. Si è stato proprio su questo punto. Sul fatto che nessuno potesse decidere se le elezioni erano state legittime o meno, corrette o meno. Ma gli organi previsti dalla Costituzione ivoriana. Al di fuori di questo lui non riconosceva nulla. E anche se gli era stato estorto un certo sì, che poi non si è mai trovato per iscritto, ha una supervisione delle Nazioni Unite, ma una supervisione di tipo politico. Ma il Presidente della Repubblica che ha girato fedeltà alla Costituzione resta fedele alla Costituzione fino alla fine. Questo è il suo punto. E così è stato. Ha commesso degli errori. Perché ha capito che, o forse lo sapeva, che così andava a sbattere contro un muro quello che è stato. Ma lui però una volta me l'ha detto. Perché una volta mi ha detto, caro Paolo, anche Agliente sapeva che non ce l'avrebbe fatta. E' andata avanti fino a me e poi è morto. Benissimo. Sarà così. Però, se cominciamo a giocare sui principi fondamentali, l'Africa non la costruiremo mai. E questa sua fedeltà a questo stato di diritto, che io ritrovo un po' in questo suo amore per Roma, in queste... Cioè ci sono alcune cose ferme, sono senz'altro gli elementi positivi del suo pensiero. E' quello che me lo hanno reso sempre così simpatico. Per usare una parola leggera, perché bisognerebbe usare una parola più importante. Ecco, se c'è una cosa che credo farà molto male, fa molto male al Presidente, è quello di essere trascinato davanti a una Corte. Che, ecco, mi viene di aggiungere, ci sta deludendo moltissimo. Moltissimo. Forse l'errore iniziale era di mettere la Corte alle dipendenze del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Però, certamente, c'era la speranza che la Corte portasse giustizia. Ma quando si vede che i processi durano più a lungo davanti alla Corte Penale internazionale che davanti alla magistratura italiana, che, diciamo, dobbiamo riformare tre anni di carcerazione preventiva in attesa di formalizzare le prove e formalizzare l'accusa, mi sembra veramente che si passa tutto. E poi il fatto di non voler esaminare il contesto, ma voler giocare solo sugli ultimi episodi, mi sembra anche questo una cosa che è difficilmente accettabile e che squalifica un po' la Procura della Corte Penale internazionale. Io spero molto che un nuovo giudice che fa parte della Corte, che è un giudice italiano, che non conosco, non so nulla, ma spero che abbia la saggezza di considerare con attenzione questi passaggi. perché non capisco che pericolo, capisco che pericolo politico, io capisco che alcuni possano avere paura di una liberazione di Bagbo perché probabilmente questo sarebbe accolto trionfalmente dalla popolazione del suo Paese, però voglio dire, non è per questo che si può tenere una persona in prigione, se è così, in attesa che si formalizzino i capi d'accusa. E poi, ecco, se il suo reato è un reato di essere rimasto legato a un ordinamento giuridico, che era l'ordinamento giuridico su cui si leggeva tutto il Paese, beh, insomma, c'erano altri modi per arrivare alla soluzione dei problemi della Costa Duorio. Beh, lì ci sono aspetti diversi perché Boachet è un fatto militare, Boachet è un fatto di politica internazionale e poi Boachet è anche un fatto di politica italiana, cioè della comunità italiana. Partendo da questo, che è la cosa più semplice, cioè della comunità italiana, è chiaro che l'attenzione che si viveva, i bombardamenti ad Abidjan, la sommossa popolare che venne spontanea dopo i bombardamenti, crearono preoccupazione nella comunità italiana. Però la comunità italiana non è stata mai molestata. Mi ricordo che uno ricevete una pietra sul parabrezza della macchina, perché c'era una folla che videro questa macchina, pensavano. Ma insomma, problemi per la comunità italiana? Mai. Quando io dissi alla comunità italiana se c'erano alcuni che volevano partire noi avevamo prontato degli aerei per poterli portare via e ci furono alcune donne e bambini che le famiglie pensarono che era più prudente fare partire. Li raccogliemo in ambasciata e con dei pullman li portammo in aeroporto. Il governo mi assicurò la scorta armata per accompagnarli, con la bandiera tricolore italiana davanti e fra gli applausi e la simpatia della gente. Così sono partiti poi un piccolo gruppo che partì. Quindi sì, la tensione era forte. Era forte perché certamente fu un episodio che forse la Costavore non conosceva, di vedere gli elicotteri da combattimento che bombardavano i ponti, i morti. Io credo che l'Elidec, un ambasciatore che io stimo moltissimo, stimo moltissimo. Che ha avuto un momento anche molto difficile ma ha saputo conservare sempre lucidità, sangue freddo. non so se abbiamo tempo di parlare anche di lui un attimo, però una persona che stimo moltissimo. Certamente era la situazione pericolosa per i francesi perché il grande bacino di popolazione capace di creare problemi è Yuppugon. Quindi una Rue di Yuppugon sul Bima, non si sa come finiva. Allora bisognava assolutamente bloccare i ponti perché impedendo l'attraversamento della laguna e il Bima era abbastanza protetto. E poiché questo episodio di Boachet, il seguito dell'episodio perché è la distruzione dell'aviazione ivoriana da parte dell'aviazione francese e il successivo movimento delle truppe verso la residenza di Bagbo, il ripiegamento delle truppe che determinò questa ondata popolare. Ondata popolare che portò a degli episodi certamente condannabili e condannati di violenze, devo dire abbastanza ridotte in numero, però alcune furono anche molto significative come la distruzione del liceo francese, come l'istruzione del distrutto culturale, un po' simboli della Francia che venivano attaccati. Però è chiaro che la preoccupazione principale era un assalto popolare alla sede militare francese. E in questo penso, io non ho motivi per elementi di conoscenza per dire che questo si stava preparando, non lo so, certamente il bombardamento dei ponti servì a frenare questa ondata popolare che avrebbe potuto, se adesso lo dice l'IDEC, probabilmente così, uno degli scontri molto pesanti sul campo militare francese, cosa che non avvenne, perché poi la cosa, anche questa, nella sua estrema gravità, fu gestito dal popolo, dalla gente ivoriana, tutto sommato, con moderazione, perché l'episodio in sé di una gravità estrema, perché anche lì come è difficile mantenere gli equilibri, cioè che c'è sempre due pesi, due misure. Un aereo, si pretende che un aereo tiri su un campo militare, un errore, un atto voluto, anche questo tutto coperto da un segreto molto strano. Comunque, episodio gravissimo, doloroso, che porta alla morte di giovani militari francesi e un americano anche, che era presente in quel momento, in quel punto del campo. però la reazione deve essere un po' misurata sull'episodio, a bombardamenti che distruggono l'aviazione del paese e lo mettono a terra, incapace più di condurre un'azione militare, sembra sproporzionata dal punto di vista politico, ma anche umano. Senta noi, come Italia, non fummo consultati e io l'unica cosa che posso dire è che non fui consultato. Però, da quello che ho saputo, dai miei colleghi, erano stati consultati la masciosa degli Stati Uniti e di Francia. Furono consultati e non dettero il fuoco verne. Le denunze espressero formalmente, ma non esprime formalmente, secondo tante interpretazioni diplomatiche, vuol dire dare l'approvazione. Perché di fronte a una richiesta come questa, se uno non è d'accordo dice no. Se uno non dice niente, vale la regola, chi taccia consente. Quindi, l'operazione cominciò con un sostanziale accordo dei grandi paesi, a che l'operazione si svolgesse rapidamente, che non portasse troppi danni collaterali, ma che permettesse al paese di riprendere a vivere. Così non avvenne un po' perché le truppe ivoriane, per deficienze antiche, anche queste, anche questa è una cosa di cui si accusa Bagbo, che non aveva puntato subito tutto sul riarmo. Ricordo che lo stesso Bagbo lo disse. Alla prima festa nazionale, dopo la presa del potere, lui esaltò la cultura e nominò cavalieri, non so, dette degli ordini del merito, a dei poeti, degli artisti. E poi a noi disse, beh, dovrei occuparmi delle serie, ma lo farò prossimamente. Quei prossimamente non gli hanno dato il tempo di farlo. Però lui non lo fece mai, in realtà. Però so che vi chiesero, Bernard Cadet, per esempio, già nel 2001, vi chiesero delle armi o almeno munizioni, eccetera, che la Francia rifiutò. Ma perché, sì, però non ha mai perseguito con determinazione, sì, dopo il colpo di Stato, certamente, però anche lì con una certa improvvisazione. Guardi, il bombardamento, per esempio, su Boaket, viene fatto con piloti della Bielorussia, con aerei presi in prestito. Cioè, non c'era, forse nemmeno il tempo, e non c'erano forse nemmeno le risorse economiche, non lo so, per assicurare un'operazione militare fudriante, rapida e risolutiva. Quindi, ma in questa situazione, comunque, di progressi militari, ecco, non di vittoria, ma di progressi militari, era veramente difficile da capire perché gli aerei andassero a bombardare proprio la base francese. Ma questo resta il grande interrogativo, un grande interrogativo che deve essere chiarito dalla giustizia francese. perché il processo continua a essere chiedo sospeso perché in attesa di elementi di prova decisivi. Per capire bene, l'Elidec, io non lo so che cosa ha detto l'intervista perché non l'ho sentita, ma lui quante volte mi ha detto a me, ma io chi devo sentire, il Kedorset o l'Eliseo? C'è stato a un certo punto questo collegamento fra Eliseo Mor, il Ministero della Difesa, la Lio Marie, che operavano e Kedorset era tenuto a parte. Quindi l'ambasciatore che era lì, delle volte si trovava completamente. E questo fatto è, secondo me, l'indizio più importante, più grave della contraddizione della politica francese. E perché c'era una politica anti-Bagbo così determinata in Francia? Qual era il motivo? Questo resta il grande interrogativo della storia. Perché è possibile il risentimento di Chirac? No, c'era un'altra cosa. E cos'era? Io penso che sono l'operazione dei servizi, che conoscevano Bagbo, lo avevano etichettato ai tempi di Ufouet come il nemico dell'Occidente, quando ha preso il potere, ha preso il potere il nemico dell'Occidente, fatelo fuori, subito, perché lui è uno sporco comunista. Ma tutto era cambiato nel mondo in the meantime, tranne forse quel funzionario che era ai servizi che continuava a etichettare quello lì e dire, muori. Non lo so perché sennò veramente... Beh, di Simone io che cosa posso dire? Che a me piaceva molto al punto tale che quando pubblicò il suo libro Parole d'honneur, io sono stato io che l'ho presentato insieme a lei a Milano. Quindi quando lei è venuta in quel viaggio, che è bellissimo, che fece nel nord Italia, una vacanza, la comunità ivoriana di Milano la invitò a presentare il libro e io, molto volentieri, accettai di farle domande sulla base del libro perché lei lo illustrasse. Era una persona, certamente una combattente. Simone non è una donna col Siasi, è una donna coraggiosa, determinata. Certamente da lei ho avuto delle volte delle espressioni politiche più vivaci e più forti che non da suo marito. Il suo partito era un partito che voleva essere transetnico, proprio alla base, e lo aveva dimostrato in tutta la sua storia perché come si fa da smentire che l'FBI era un partito transetnico, che aveva musulmani, cristiani, animisti, nei posizioni di comando, aveva gente del nord, del sud, c'era di tutto dentro. E questo era il suo sogno, questo era il suo sogno, questo era il suo sogno della Costa d'Avorio. C'erano degli assassini, sono stati commessi degli uccisioni, chi li ha commesse chi lo sa. Non lo sapeva nessuno perché tant'è vero che nemmeno Bagbo lo sapeva e che ha giocato alla carta nazionalista bene, bene, è riuscito a organizzare dei movimenti di piazza veramente strepitosi e questo gli ha dato un po' la testa. Però, ecco, col materasso non credo che abbia fatto molto più di questo. Io devo dire che anche Blecudè non l'ho mai considerato come un nemico da battere, ma come un elemento, anzi, direi anche un po' da rispettare in una situazione di un paese così sconvolto da una crisi profonda. Perché, ecco, ripeto sempre questo, dobbiamo stare attenti a non dimenticare il quadro, giudicare gli episodi dimenticando quello che è successo. Cioè, nel 2002 cosa succede? Che un paese che già era fragilizzato da tutta la crisi, la morte di Ufuet, un dittatore che quindi morendo lui lascia il vuoto, una gestione approssimativa, un colpo di Stato militare, una crisi economica profondissima dovuta alla situazione internazionale. Questo paese viene aggredito in questo modo, viene polverizzato nelle sue strutture, viene diviso a metà, poi vogliamo applicare i criteri normali di gestione. Beh, c'è qualcosa che non funziona, non funziona. E quindi, ecco, il governo di Bagbo va giudicato su questo sfondo, su questo sfondo, come il tentativo fatto giorno per giorno di tenere in piedi quello che era salvabile di questo paese. Il tentativo che veniva fatto delle volte anche con quelle tattiche politiche che lo fecero, gli meritarono l'accusa di essere un boulanger perché metteva, lui infarinava tutti, come dicevano i francesi, lo chiamavano il boulanger perché avvolgeva tutti un po' nella farina e poi li friggeva come voleva lui. Ma che cosa gli era rimasto? Che cosa gli era rimasto? Se non un'abilità manovriera o abbandonare i suoi principi, quello che avrebbe voluto la Francia, ritirarsi oppure cercare in qualche modo di sopravvivere. Nell'ultima fase io mi sono allontanato dall'agosto d'avorio. Io ho continuato un po' a frequentare proprio quando Izzo era ambasciatore e proprio tenendo i contatti con Choi, con il rappresentante speciale segretario generale delle Nazioni Unite, che mi era sembrato una persona anche comprensiva, capace di comprendere, forse proprio perché veniva da un paese come la Corea, che quindi era meno implicata in queste vicende. Però poi anche lui mi ha rapidamente deluso perché ho trovato che c'era anche lì un muro di indifferenza. Il Presidente Angolano disse che era proprio Choi il problema della crisi, cioè con questa nuova incertificazione che poi non era neanche il suo mandato. Lui ha fatto quello che gli chiedevano di fare, ha fatto quello che veniva chiesto. D'altra parte lui aveva un suo connazionale che era il segretario generale e poi aveva un consiglio di sicurezza che era completamente ormai schierato e quindi non c'era più niente a fare. Quando stavo per lasciare, avevo finito il mio servizio in costo d'avorio, cioè scaduti i miei 4 anni di servizio e dovevo partire, io che mi preparavo a salutare soprattutto i colleghi con cui avevo avuto i migliori rapporti, che erano i membri del comitato dei seguiti dell'accordo di Marcosina, il comitato dei suivi. Nel comitato dei suivi tre persone in particolare erano persone con cui avevo stabilito un ottimo rapporto di collaborazione anche di intesa politica e operativa. Uno era Lanzana Quiatè, ex ambasciatore, che era il rappresentante della Francofonia, che era uno dei membri del gruppo. Lanzana Quiatè è stato poi primo ministro della Guinea e è un uomo politico adesso in Guinea. L'altro era André Salifu. André Salifu del Niger era rappresentante dell'Unione africana, quindi io dell'Unione europea, lui dell'Unione africana, eravamo rappresentanti di due entità importanti. E il terzo, Raf Wechwe, anche lui importante ambasciatore della Nigeria, che rappresentava la sede AO, l'ECASOC, l'Organizzazione dei Paesi dell'Africa Occidentale. Con questi tre in particolare noi avevamo stabilito un rapporto, un'intesa, anche una lettura analoga della situazione politica ed eravamo un pochino su posizioni diverse dal Presidente, che era Thé Vosgeret, appunto il Beninois, che era Presidente del Comitè del Comitè dei Suivi. Con questi qui, quando io stavo per lasciare, facemmo una cena di saluto e mi ricordo che ci dicemmo che peccato. Avevamo condiviso non solo la battaglia di Marcusis, dei seguiti, ma tante idee sull'Africa. E soprattutto la condivisione di una cosa fondamentale, cioè che l'Africa aveva come problema principale da affrontare, che era quello di ripensare lo Stato. Cioè lo Stato in Africa è troppo fragile, non funziona e quindi bisogna lavorare per capire i motivi profondi e come quindi affrontarli, senza copiare modelli stranieri, diciamo. Però la contraddizione qual era? Che lo Stato in Africa era un'importazione di un modello straniero. Perché lo Stato che noi conosciamo, lo Stato postcoloniale, lo Stato dell'indipendenza, l'età nella sua struttura giuridica, non corrisponde in nulla a quello che è l'Africa. Perché le popolazioni erano state riunite a Borlino con la forza, le istituzioni erano state copiate dalle nostre, o inglesi, o francesi, o portoghese. Per cui i poveri africani si sono trovati, prima di tutto, governati insieme con popolazioni con cui non avevano nessuna intesa o comunque non erano scelti da loro. I territori erano stati definiti arbitrariamente, le istituzioni erano del tutto straniere, i principi giuridici anche. Finché questo Stato era retto dalle baionette coloniali, va bene, ma quando queste baionette coloniali sono andate, questi Stati si sono trovati improvvisamente a dover gestire con questa difficoltà, questo peccato di origine, direi. Allora, era facile prevedere che gli Stati sarebbero saltati in aria il giorno dopo, come tappi di una bottiglia di champagne? No! Tutti questi Stati hanno retto benissimo, tra anni uno, la Somalia. Tutti gli altri? Problemi ci sono stati. Ma questo Stato resiste. Quindi tutta questa operazione di nation building, state building, costruzione dello Stato, costruzione della nazione, funzionano, malgrado difficoltà internazionali, interferenze internazionali, manipolazioni. Allora la nostra idea era bisogna che questi studiosi di Stato, questi statisti nel senso sia politico che anche scientifico, quindi studiosi dello Stato, africani, si mettano insieme. Invece di essere collegati sempre con l'Europa, sempre con gli Stati Uniti, sempre con questo mondo alieno che viene da fuori, fra di loro, perché stanno creando una realtà nuova che è lo Stato in Africa. Ecco, un centro relazioni sullo Stato in Africa. Era l'idea di costruire una rete africana di politici e studiosi dello Stato per cercare di scambiarsi questi, le esperienze, proprio. Quali sono le best practices? Io ho fatto così e tu come fai? Ecco, così si vive in tutte le società del mondo e così anche in Africa. Per una volta tanto senza andare a scuola a Parigi, ma cercando insomma di andare a scuola ad Abidjan. E quindi questa era l'idea che c'era dietro. Allora andammo da Bagbo, ecco un'altra cosa che ricorda quel presidente. Perché andammo tutti e quattro da Bagbo. E lui ci ricevette sorpreso. Pesce, cos'è? Una fronda di Marcussis? Disse lui quando entrammo. Dice, no, noi non siamo qui come Comitè del Suivi di Marcussis. Noi siamo qui perché abbiamo deciso di creare un centro che si occupa dello Stato in Africa. Lui dice, finalmente, mi ricordo, finalmente una buona notizia che nasce dalla crisi ivoriana. Sono con voi al cento per cento. Se avete bisogno di aiuto, vi aiuto. E noi il primo convegno del CREA l'abbiamo fatto a Milano nella sede dell'Edison. Il 2005, quando nacque, facemmo un convegno studi che fu per me una cosa bellissima perché per la prima volta facevamo un convegno sull'Africa in Italia, a Milano dove al Banco di Presidenza c'erano solo africani. Il grande problema per esempio del cambiamento climatico, per esempio anche l'approccio che tenemmo sui cambiamenti climatici a me sembrò molto moderno perché noi era il problema della formazione dei quadri dirigenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici perché studiare i cambiamenti climatici in sé sì, importante, però voglio dire si fa in quadri dove c'è anche una strumentazione scientifica adeguata per studiare questi fenomeni. Mentre invece i paesi africani avevano l'urgenza di dotarsi di personale che era informato sull'impatto che avrebbero avuto i cambiamenti climatici nei loro paesi, non in termini generali, ma l'impatto per esempio erosione delle coste, avevamo cercato di avviare un lavoro per avere specialisti che potessero controllare il problema dell'erosione che avrà delle conseguenze enormi per la laguna in costo d'Avoria, quindi per le popolazioni che vivono di pesca e che vivono sulla laguna della laguna e compresa Bijan che è una città alla laguna, lì ci saranno dei problemi, bisogna fare in fretta a misurare per esempio i livelli perché è probabile che ci sarà un aumento del livello del mare e già ci sono delle isole costiere che sono sparite a seguito dell'erosione. E poi avevamo soprattutto con quel tentativo che facemmo, volevamo creare una rete di informazione scientifica su l'andamento delle piogge di tutta l'area dell'Africa occidentale e facemmo un grandissimo convegno, sono venuti dei grandi scienziati italiani in questo convegno, fu un esperimento bellissimo questo del CREA, è stato un grande peccato che anche questo sia stato travolto da questa guerra.